Musica Necessaria la terza dose a tutti a partire dagli over 60 e soggetti fragili. Per il ministro Speranza è importante anche il Green Pass per tenere sotto controllo l'epidemia. Con la quarta ondata l'Europa epicentro della pandemia. Grave e preoccupante la diffusione del contagio soprattutto nell'Europa dell'Est. COP26, avete fallito. I giovani a Glasgow levano il loro grido di protesta contro i grandi della terra e dicono vogliamo giustizia climatica. Mezzo secolo di medici senza frontiere. Una mostra racconta l'opera dell'associazione che porta assistenza sanitaria nei tanti drammi dimenticati che affliggono l'umanità. Buonasera, ben ritrovati con il TG2000. La diffusione del contagio non si arresta, la situazione in Italia è sotto controllo ma diventa sempre più urgente la terza dose. Beatrice Bossi Sono oltre 6.700 i nuovi positivi oggi e altre 51 le vittime. Nell'ultima settimana poi l'incidenza del virus è cresciuta e l'RT dopo due mesi al di sotto della soglia critica ha superato l'1%. Gli ospedali di Marche Calabria già da qualche giorno sono osservati speciali e i posti letto occupati nelle terapie intensive del Veneto in sette giorni sono raddoppiati. La quarta ondata è arrivata. Sicuramente è una quarta ondata già iniziata. È chiaro che non colpirà tutti i paesi europei nella stessa forma, lo vediamo già da adesso. I paesi che hanno una più alta percentuale di persone vaccinate sono i paesi in assoluto più protetti. L'Italia è tra i paesi più virtuosi, merito delle buone pratiche ancora in vigore e della campagna di vaccinazione arrivata a coprire oltre l'83% della platea sopra i 12 anni. Spedite ad oltre 100.000 iniezioni al giorno vanno avanti anche le terze dosi. Personalmente l'ho ricevuta senza il minimo problema e conferisce ulteriore protezione proprio perché stimola le cellule della memoria del sistema immunitario. Per il momento destinate solo agli over 60, la prossima settimana la comunità scientifica deciderà sull'allargamento della platea. Il generale Figliuolo si dice già pronto a farla a tutti. Le dosi ci sono, le regioni siano pronte alle inoculazioni. Il picco sarà raggiunto tra dicembre e febbraio. E l'Europa è il nuovo epicentro della pandemia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme. Siamo entrati nella quarta ondata. Il servizio di Francesco Durante. Contagi in salita e aumento dei ricoveri nel vecchio continente. Le maggiori criticità si riscontrano in Russia, nei paesi dell'est e nell'area baltica, fino al Belgio e al Regno Unito. Ma peggiora anche l'Austria, che ieri, con oltre 6.500 infezioni su 9 milioni di abitanti, ha raggiunto il record dell'anno. Ci troviamo in un punto cruciale, avverte Hans Kluge, direttore regionale per l'Europa dell'OMS. L'Europa è tornata nuovamente all'epicentro della pandemia, come un anno fa. L'incremento di nuovi casi di Covid l'ultimo mese è stato di oltre il 55%, con i tassi di ricovero in ospedale più che raddoppiati in una settimana. I dati sono preoccupanti, segnala ancora Kluge. Se continua questa tendenza, sottolinea, secondo proiezioni attendibili, entro il 1 febbraio 2022 si potrebbero verificare un altro mezzo milione di decessi correlati al Covid. Il virus riprende la sua corsa, con la variante Delta più trasmissibile e l'Agenzia Europea del Farmaco lancia l'allarme. Siamo già nella quarta ondata e questo fa notare, a causa di due fattori, l'insufficiente copertura vaccinale e l'allentamento delle misure di sicurezza, come il distanziamento sociale e l'uso delle mascherine. La prossima settimana il Consiglio dei Ministri fissa il decreto attuativo per l'assegno unico, si andrà da un minimo di 50 a circa 180 euro per ogni figlio. La domanda da gennaio 2022 è le prime erogazioni da marzo. Per il 2022, per evitare due mesi scoperti, si prorogheranno a gennaio e febbraio assegno ponte e assegni familiari oggi in vigore. I tassisti italiani sono di nuovo sul piede di guerra e questa volta la scintilla che rischia di accendere la protesta si chiama DDL Concorrenza. Leonardo Possati Tassisti sul piede di guerra. Il tema è quello della libera concorrenza e il governo vuole mettere mano alla riforma del trasporto pubblico locale per regolamentare quelle realtà che si affacciano in questo mercato del lavoro. Io ho una licenza, ho una regola, ho fatto un esame, ho fatto questi. Tante volte vanno addirittura le macchine che non sono neanche riconosciute. Cioè, lei se chiama Uber, se esiste, se funziona, lei è capace che gli arriva una macchina che non è omologata a NCC o quant'è, una macchina qualsiasi. Noi siamo un po' stufi, pure perché intanto le leggi ci sono sempre state, non vengono mai applicate, i controlli non ci sono e noi siamo pieni di abusivismo, di applicazioni che lavorano senza regole, senza turni, senza niente. Il DDL concorrenza, atteso quattro anni e approvato ieri, tocca svariati argomenti, dalle assicurazioni alle comunicazioni, dai servizi pubblici all'energia. L'obiettivo è garantire la competizione in diversi settori, condizione questa richiesta dagli impegni presi dal governo per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra i punti che maggiormente fanno discutere c'è quello delle attribuzioni delle concessioni balneari prorogate al 2033, questione questa sulla quale oggi è intervenuta la portavoce per il mercato interno della Commissione, Sonia Gospodinova, sottolineando che è prerogativa delle autorità italiane decidere come affrontare la riforma del regime delle concessioni balneari. Il tema è delicato anche perché è atteso a breve un pronunciamento del Consiglio di Stato. Per ora, sulle licenze balneari e anche su quelle degli ambulanti, l'esecutivo ha deciso per una sorta di ricognizione che permetta di comprendere chi le detenga, per quanto tempo e soprattutto quanto paghi. A Glasgow è la giornata dei giovani. Il corteo di protesta dei Fridays for Future presenta la sua dichiarazione per il clima e poi una maratona di preghiera per salvare il pianeta. Caterina Dall'Olio È entrata subito nel vivo la giornata dei giovani alla COP26 con un gruppo di madri in rappresentanza di quasi 500 gruppi di genitori provenienti da 44 paesi che hanno chiesto la fine del nuovo finanziamento dei combustibili fossili per il bene della salute dei loro figli e del loro futuro. La maggior parte di loro, i veri protagonisti della giornata di oggi invece, sono stati fuori dai palazzi della COP per le strade di Glasgow in testa ai manifestanti e le popolazioni indigene dell'Amazzonia. Al centro un'arrabbiatissima Greta Thunberg che ribattezza la COP26 come il festival del greenwashing e una spolverata di verde. I ricchi fanno i propri affari, urla l'attivista mascherandoli da transizioni verso energia sostenibile e a darle ragione proprio oggi arrivano i risultati di una ricerca commissionata da Oxfam che afferma che l'impronta di carbonio dell'1% più ricco della terra è 30 volte più grande di quella necessaria per stare sotto al famoso grado e mezzo di riscaldamento globale dai livelli preindustriali ovvero l'obiettivo degli accordi di Parigi. Infine parte oggi e si conclude domani sera la grande maratona mondiale di preghiera a centinaia di migliaia di cattolici di tutto il mondo insieme perché non si superi l'aumento della temperatura di un grado e mezzo. Oltre mille migranti recuperati da imbarcazioni in difficoltà si trovano su due navi umanitarie a sud di Lampedusa e sono in attesa di un porto sicuro. I dettagli da Luigi Ferraiono Sono un migliaio i migranti in attesa di sbarcare in Italia questa sera. Resta forte la pressione sulle nostre coste e porta l'ingresso dell'Europa. La nave SIAE4 con 800 immigrati è in attesa di ricevere come porto di sbarco Pozzallo ma manca l'autorizzazione del Viminale. Nello stesso porto è già attraccata la nave Quarantena Allegra sotto accusa Malta che secondo le ONG ha ignorato le segnalazioni. Il ministro Ramorgese ha annunciato che farà presente alla Commissione europea le difficoltà dell'Italia nel ricevere come primo approdo tutti questi immigrati. Un tema ribadito dal capogruppo di Forza Italia al Senato Bernini che dice no a continui sbarchi senza interventi dell'Europa. Intanto la polizia ha fermato due scafisti a Crotone mentre a Verona la Guardia di Finanza ha chiuso un centro di accoglienza che truffava lo Stato sui servizi agli immigrati. Il mercato dell'immigrazione per i primi dieci mesi dell'anno vale ben 60 milioni di euro solo per i traffici tra Libia e Spagna, l'unico dato conosciuto al momento. In Senato nel decreto legge sulle infrastrutture è stata inserita una norma contro la discriminazione, una sorta di DDL ZAN mascherato. Sentiamo Cesare Cavoni. Il disegno di legge ZAN che esce dalla porta e rientra dalla finestra è la sintesi di una silenziosa e furba manovra all'interno del decreto infrastrutture. Ed è il motivo dello scontro al Senato su una norma contenuta nel DDL infrastrutture che ha riproposto una contrapposizione simile a quella sul DDL ZAN la scorsa settimana. A scatenare le tensioni la norma che prevede il divieto di pubblicità che proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche. In molti dunque si sono chiesti come fosse possibile che in un decreto riguardante gli investimenti e la sicurezza delle infrastrutture, trasporti e circolazione stradale potesse essere inserita una norma che rimandi al dibattito sul DDL ZAN. Il decreto è stato provato con 190 voti favorevoli e 34 contrari. L'Aula del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione definitiva nel testo identico a quello licenziato dalla Camera. Le culture si ammalano quando diventano autoreferenziali, lo ha detto nel pomeriggio Papa Francesco inaugurando un nuovo spazio espositivo permanente nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Il servizio di Cristiana Caricato. Un nuovo spazio espositivo nella Biblioteca Apostolica è una mostra che si ispira all'enciclica Fratelli Tutti, proponendo un percorso dalla cartografia di viaggio fino alle mappe utopiche e allegoriche, in un dialogo affascinante tra i tesori custoditi in Vaticano e le nuove istanze dell'arte contemporanea. Ad inaugurare Tutti, umanità in cammino, Papa Francesco che questo pomeriggio ha passeggiato nell'allestimento per poi affrontare il rapporto tra bellezza e verità, tra il bisogno di cultura e la sete di infinito dell'uomo. La vita è arte dell'incontro, le culture si ammallano quando diventano autoreferenziali, quando perdono la curiosità e l'apertura all'altro, quando escludono invece di integrare. Il mondo, ha detto il Papa, ha bisogno di nuove mappe per scoprire il senso di fraternità e il bene comune. La logica dei blocchi chiusi è sterile e piena di equivoci. Abbiamo bisogno di una nuova bellezza, che non sia più il solito riflesso del potere di alcuni, ma il mosaico coraggioso della diversità di tutti. Francesco ha anche lanciato una nuova sfida, tradurre il patrimonio cristiano in nuovi linguaggi, passando dall'analogico al digitale, una sfida da affrontare con saggezza e audacia. Papa Francesco si recherà in visita a Cipro, in Grecia, dal 2 al 6 dicembre prossimi. Sarà il terzo viaggio all'estero del Pontefice nel 2021. Il Santo Padre visiterà la città di Nicosia e poi in Grecia, Atene e l'isola di Lesbos. Appassioniamoci all'uomo che soffre. È l'invito di Papa Francesco che oggi ha celebrato messa al Policlinico Gemelli di Roma in occasione del sessantesimo della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Paolo Fucili. Non c'è amore per Dio senza appassionarsi dell'uomo, specie di chi soffre il dolore, l'abbandono, lo scarto. Francesco incoraggia così medici, docenti e studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma. La Cattolica festeggia così con la visita oggi di Francesco i 60 anni dall'Istituzione di Medicina 5 novembre 61 che ad oggi ha formato quasi 30.000 professionisti della sanità, messa celebrata all'aperto sotto l'edificio che ne ospitò le prime attività. Quante parole diciamo su Dio senza far trasparire amore, ma l'amore parla da sé, non parla di sé. Infatti anche una parola fraterna, un sorriso. Possono dare il senso alla giornata di un ammalato. Anche Bergoglio a luglio ha passato al Gemelli, ospedale annesso alla Facoltà, dieci giorni di degenza dopo un'operazione all'intestino. Io vorrei rinnovare oggi il mio grazie per le cure e l'affetto che ho ricevuto qui. Grazie, rinnovato poi di persona salutando medici e infermieri che lo hanno assistito. Ha cambiato qualche battuta con diciamo quella leggerezza che ha chi è finito sotto i feri ma ne è anche uscito bene. Un progetto voluto dalla conferenza episcopale Lombarda per creare un dialogo tra giovani e vescovi. Ce ne parla Nicola Ferrante. Un cammino insieme, appuntamento domani mattina in Duomo a Milano per dare il via all'incontro giovani e vescovi. 200 giovani, 10 vescovi delle diocesi lombarde più i 4 ausiliari di Milano si incontrano per andare in profondità al cuore delle questioni. 5 aree tematiche, vocazione e lavoro, ecologia, intercultura, riti, vite e dono di sé e affetti. Un faccia a faccia, anzi un cuore a cuore senza filtri e accogliendo anche le opinioni che poi nasceranno dai 14 tavoli di confronto pomeridiani. Se tu ascolti i giovani capisci le loro idee, le loro opinioni, i loro sogni, i loro progetti. Un mondo che non accoglie i giovani, che non dà loro l'opportunità di diventare quello che vogliono essere. È un mondo che non ha futuro. E chi ne vede i vescovi rappresentanti della Chiesa per ascoltare le nostre idee, le nostre provocazioni e tracciare insieme una strada comune. Evento disponibile su internet a partire dalle 9 domani mattina sul canale YouTube Oratori Diocesi Lombarde. Ciascuno di voi si domandi, ma io in realtà che cosa voglio dire al mio vescovo, che cosa voglio chiedere alla mia Chiesa, che cosa sono disposto a dare ai miei amici, alla mia gente, alla mia Chiesa, al mio Signore. Ci troveremo in Duomo ma per poi tornare sulle strade, cercare altri ragazzi e ragazze dei quali poter intuire la vocazione, la bellezza della loro vita e condividerne il cammino. Dialoga con noi! Ci attende un fine settimana l'insegna nuovamente del maltempo che interesserà gran parte dell'Italia. A Venezia ancora acqua alta. Ci aggiorna Alessandra Camarca. La pioggia caduta copiosamente in Veneto ha riportato l'acqua alta a Venezia. Questa volta però, a differenza di due giorni fa, il Mose, il sistema di sbarramento dell'acqua alta, non è entrato in funzione per proteggere la Serenissima. La situazione non ha destato eccessivamente preoccupazione, anche se il centro storico, in particolare Piazza San Marco, si sono allagati fino a toccare il picco di un metro di acqua alta a metà mattinata. Acqua che, come si vede dalle immagini, non ha scoraggiato i turisti che sembrano essersi molto divertiti con i piedi nell'acqua. Domani è prevista una tregua della pioggia a Venezia e le previsioni meteo sono buone per l'intera giornata. Intanto, per la tutela di Piazza San Marco dei fenomeni dell'acqua alta, è in via di realizzazione un progetto complementare al Mose. Piazza San Marco, come è noto, è l'area più bassa di Venezia, quindi quella maggiormente esposta all'emergenza acqua. Al Maxi di Roma, una mostra che racconta mezzo secolo di impegno di Medici Senza Frontiere. Una preziosa occasione per prendere coscienza delle crisi e dei conflitti dimenticati. Vito De Torre. 73 scatti che raccontano 50 anni di attività sul campo di Medici Senza Frontiere. Alcune delle crisi umanitarie si trascinano da decenni. L'Afghanistan innanzitutto, e poi l'Etiopia, il Libano, il dramma dei noafraggi nel mare mediterraneo, volti, persone a cui gli operatori umanitari di MSF hanno offerto in modo concreto un aiuto. 50 anni di umanità in mostra al Maxi di Roma fino al 14 novembre. Vuole essere anche una testimonianza di come le crisi adesso sono figlie di crisi del passato e di come bisogna parlarne, bisogna continuare a parlarne, perché sempre di meno, purtroppo, parliamo di quello che succede dall'altra parte del mondo. L'Afghanistan è la stessa cosa, noi siamo stati là negli anni Ottanta e ci ritroviamo di nuovo in Afghanistan con una crisi che è ancora peggiora. Tra le crisi dimenticate c'è anche la Grecia, la condizione di circa 15.000 persone intrappolate da anni nei campi profughi sulle isole al confine con la Turchia. Migliaia di persone in fuga da guerra e povertà che nessun paese europeo vuole accogliere. Una vergogna ad un'ora di volo dall'Italia. E ora la musica con il nuovo album di Giovanni Allevi dedicato al futuro del pianeta. Clara Iatosti. Guerre, distruzione, morte ed ancora commercio delle armi, inquinamento del pianeta. È duro il jacuzzi dei giovani nei confronti degli adulti che presi dalla frenesia del lavoro e dalla smania dell'arricchimento saccheggiano la terra. Proprio mentre alla COP26 in Scozia si discute di educazione alla cittadinanza, Giovanni Allevi, nuovo ambasciatore ambientalista del network europeo dell'Earth Day, si unisce al movimento che spera in un futuro più pulito. L'artista lancia infatti in anteprima mondiale a Glasgow il brano Our Future, il nostro futuro, contenuto nel suo nuovo album Estasi per pianoforte solo, in uscita proprio oggi. Il video, ha dichiarato Giovanni Allevi, offre una riflessione sul destino del mondo, osservato dallo sguardo pensieroso dei bambini. Nel rapporto con la natura si gioca il destino della nostra felicità. Termina qui il telegiornale, ora vi lascio le previsioni del meteo e seguire la rubrica Guerra e pace condotta da Antonio Soviero. Felice serata.